E' finalmente tornato a funzionare il semaforo posto all'incrocio fra Viale Matteotti e Via Trento a Imperia. L'impianto è rimasto spento dallo scorso 26 aprile quando era stato danneggiato a seguito di un incidente stradale che aveva vista coinvolta un'ambulanza. La precedente amministrazione comunale, guidata da Carlo Capacci, aveva avanzato l'ipotesi di non riattivare l'impianto a seguito di una valutazione dell'andamento del traffico nella zona. Ma nel frattempo sono sorte polemiche in merito e si sono anche verificati ulteriori incidenti. La nuova amministrazione, guidata da Claudio Scaiola, una volta terminati gli interventi di riparazione sull'impianto, ne ha quindi deciso l'immediata riattivazione.